Buongiorno a tutti da Luke 65. Scusate se rido, ma stavo vedendo dei video su YouTube dove c'è gente che sta sclerando perché l'Inter pare stia smobilitando Conte, ci sono giocatori che dovrebbero essere messi in vendita. Allora, queste sono cose vecchie, vecchie, vecchie. Vabbè dai, c'era lo scudetto di cartone e adesso c'è lo scudetto delle pezze al culo. Vabbè, è un film già visto, è un film già visto, poi magari succede un miracolo, arriveranno i soldi, rimarranno tutti. Il problema è che per venirci dietro, per venirci dietro, sia la seconda volta che fondono, è già la seconda volta che fondono il motore. Occhio eh! Occhio che poi dopo... La cosa strana è che in serie B, per cose molto più piccole, ci sono punti di penalizzazione e questi qua sono andati a vincere uno scudetto meritato sul campo, ma... avendo fatto il passo si dice più lungo dalla gamba, molto più lungo dalla gamba, perché se arrivi a non pagare gli stipendi, se a casa tua sono mesi che non paghi gli stipendi, c'è qualcosa che non va, eh? Non vi preoccupate, non ve lo tolgono lo scudetto, non ve lo tolgono lo scudettino, lo scudettino non ve lo tolgono, mi hanno lasciato quello di cartone, ma mi danno questo, questo del covid e delle pezze al culo. E' stato anche bravo Conte a vincerlo, poi ovviamente è uscito dalla Champions League facendo un danno, facendo un danno. Perché caro Conte, alla fine se tu fossi andato avanti in Champions League, era meglio, se perdevi il campionato, arrivavi, come Pirlo, quarto, magari vincevi la Coppetta Italia, Coppetta Italia, e poi magari arrivavi ai quarti della Champions League, incameravi una cinquantina di milioni in più, eh, purtroppo, caro mio, riempirsi di giocatori datati, Kolarov, Young, un sacco di contratti per cercare di vincere, di vincere, è una fine, come si dice? Qualcuno sta bussando, ehi, devi pagare i conti, eh! Sta... Mi viene in mente la scena, la scena di Manzotin, di Febbre da Cavallo, Manzotin... Qualcuno scenderà dalla sede col fazzoletto, qualcuno scenderà dalla sede col fazzoletto, è morta... È morta nonna, è morta nonna... Il problema è che non è morta nonna, è morto il calcio, è morto il calcio... Infatti, volevano entrare nella Super League, ah, poi si sono cagati in mano, si sono schiaffati... Almeno, almeno, almeno la Juventus ha... Almeno la Juventus ha avuto le palle di voler fare la Super League, e c'è rimasta con Real Madrid e Barcellona, squadra, che anche loro hanno avuto le palle... Invece c'è stata gente che c'è entrata... Magari se domani la vi fanno, ci è rientrata un'altra volta... Io non vi vorrei più, in Super League... A parte che non si sa neanche se sarete in Italia... Io sono di tua via... Qua... Qua è successo... Siamo già memori dei casini che hanno fatto... E comunque, come godo, godo a vedervi sclerare... Perché domani ci sarà il CDA della Juventus... Ma lei è dietro, abbiamo una proprietà che gli stipendi li paga e i soldi li mette... Magari poi non comprerà nessuno, una squadra di Malasca... Eccetera, eccetera, eccetera... Si andrà avanti con Plus Valenza... Però... Noi siamo solidi, solidi... Ehi, mi ricordo, eh, ma vende un sacco di elettrodomestici... Un sacco di elettrodomestici... Va bene, va bene... Allora che cacchio state sclerando? Cosa state sclerando? Avevamo ragione... Avevamo ragione... Avevamo ragione... Avevamo... Quando diceva... Eeeh... Miliardi... Miliardi... Milioni... La stella di Negroni... Vuol dire qualità... Comunque... Avanti così... Si dice... Avanti così... Che troverete un altro proprietario... Troverete un altro proprietario... Forza... Forza, dai... Che adesso sulla gazzetta cosa scriveranno? Che siete su tutti... Su Messi... E meno male che non è arrivato Messi... Non è arrivato Messi... Mi fate ammazzare... Anche quando vince... Vincono... Mi fanno ammazzare... Non hanno festeggiato neanche... Non sono riusciti neanche a festeggiare bene lo scudetto... Perché guardavano... La Juve in Champions League... E la finale di Coppa Italia... E' andata male... Tutte e due... Ciaone... Preschittone... Come get involved... Ciaone... Grazie a tutti.